E' stato un viaggio di cinque giorni. Abbiamo valicato confini di tre stati. Abbiamo incontrato cinque associazioni e alle spalle abbiamo avuto il sostegno di tutte le 20 associazioni di Samaritan International. Abbiamo allestito sei moduli. Essere volontari Ampas vuol dire essere volontari di pace, per la pace. Vuol dire andare incontro a chi deve scappare da una guerra. Vuol dire soccorrere, accogliere, sempre con cura, la migliore possibile. Grazie.